Ma vedete queste quest, queste cose cosossime che non si capisce niente Praticamente sono delle quest che noi dobbiamo fare per completare questa serie moddata nuovissima E quindi direi di iniziare subito a scavare il primo albero Vedete questo albero qui? Praticamente questo albero dovrebbe avere delle mele, credo Eh sì, vedete? Se schiaccio col destro praticamente mi dà le mele, che buono Allora questi alberi ce li teniamo perché sono utilissimi, quindi uccidiamo solo quelli normali E poi qua c'è un bioma enorme di zucche come ben vedete, che figata Troppo bello, suoni troppo bellissimo Oh mio dio ma quanto è brutto questo maialone, cioè guardatelo, non è un maiale normale questo, cioè è molto inquietante È stranissimo, di solito i maiali sono rosa, i maialini, invece questo qua è strano, non so nemmeno che colore sia quello In realtà non è un colore, no vabbè scherzo, però praticamente adesso andiamo perché questa è una serie moddata ragazzi E cioè come ben vedete tipo questo campo enorme di robe non c'è normalmente come ben vedete Cioè ovviamente voi sapete che in Minecraft non esistono queste cose e nemmeno questo campo immenso di alberi caduti Giustamente, cioè nel senso secondo me non esistono, poi go, fate voi Però praticamente io direi di andare in miniera e quindi direi di completare la prima quest che sarebbe quella di Fare tipo, boh, una crafting table e aprirla Giusto? L'ho fatto, no? E quindi se io ora apremo questo, no, se io ora apremo questo invece Mi dirà che ho fatto il primo coso Open crafting table from your inventory Oh, dal mio inventario avrei dovuto aprirla la crafting table Sono stato sciocchino, però E quindi come si fa ad aprire dal mio inventario? Non lo so, ma comunque dobbiamo andare a prendere delle cose in miniera ragazzi Quindi adesso andiamo Dove sta la miniera? Yuhu, miniera Che cospito è sta roba Una bell pepper Una peach che sarebbe una pera, no? Voi sapete che le peach sono le pere Non so se lo sapevate, ma adesso se non lo sapevate lo sapete Le peach sono le pere, credo, giusto? Sono le pere, giusto? Spero di sì E poi qua ho trovato delle carote E altre, altri retaggi che possiamo utilizzare Possiamo anche fare una farm di un sacco di robe nuove Tipo la farm di cibo, tantissime cose nuove Tipo qua c'è una caverna magica Insomma magica più o meno, una caverna Però non si vede niente all'interno bene Se vedete che è diventato tutto più luminoso è perché ho messo una texture pack molto bella E quindi praticamente ora metto la torcia Che è molto buona E non scendo mai più in quella caverna Perché stavo per morirci male Quindi nooo Direi di no Però dammi la mela Che non ho la mela Per favore Voglio la mela Scrivetemi nei commenti Se a voi piace la mela oppure no Sia su Minecraft che in Navitarea Cioè a voi piace la mela? Sì o no? Nei commenti Che io sono molto curioso di sapere queste cose Perché Da so che stiamo parlando della mela Io adesso so che voglio sapere se a voi piace la mela oppure no Non posso Scusate sto impazzendo un attimo Potrebbe essere che magari devo parlare con uno psichiatra Ma intanto Intanto Dovemo andare da questa parte qua E io solo so cosa sto facendo Perché davvero Non Ma che caspita è raga Raga ma cos'è? What? Ma che figata Scusate se sono restato in silenzio per un po' Però abbiamo preso un sacco di cose qua Ok perfetto c'è del cibo Abbiamo avuto fortuna qua ragazzi Abbiamo avuto super fortuna E abbiamo fatto anche un advancement Il che è buonissimo Perché se facciamo gli advancements Praticamente Vuol dire che andiamo avanti nel gioco Ed è questa la cosa che dobbiamo fare noi Andare avanti con questa avventura Con gli advancements Infatti scrivetemi anche voi Cosa dovrei fare Cosa secondo voi dovrei fare Perché sono Allora dobbiamo tutti quanti interagire Perché senza di voi Senza voi che mi guardate Non avrei Non farei queste avventure Le farei da solo sarebbe triste Invece con voi è molto più bello ovviamente Anzi non le farei proprio le avventure Cioè nel senso voi siete i miei compagni di avventure Siete i miei amici che mi guardate I miei compagni di avventure Quindi dovete consigliarmi nei commenti Insomma Siamo tutti quanti insieme Aperti di mente Dovrebbe essere così Quindi Per favore scrivetemi nei commenti Appunto queste cose qua Cioè nel senso Non so se ho reso l'idea Di quello che Che volevo dire Però ci credo veramente A questa cosa Cioè nel senso Voi davvero siete Secondo me I miei compagni di avventure Di tutte le avventure Che stiamo facendo Guardate qua Abbiamo trovato una casa Questa è un'avventura Una casa misteriosa Secondo me questa è un'avventura fighissima Allora qua c'è una mucca molto particolare Anche questa è un'avventura molto bella Adesso mi devo sistemare un attimo l'inventario Perché se no Qua muoio E non va bene Cioè nel senso Scrivetemi anche voi Se vedete che sono stupido Cos'è sta roba? Il manuale di quello là Che non so chi si Ok praticamente qua possiamo vendere cose Possiamo imparare Possiamo decidere noi come dobbiamo fare Boh vabbè comunque Adesso Faccio La crafting table Un'altra Perché ovviamente L'ho persa l'altra E direi di farci degli attrezzi Più utili Come degli attrezzi di pietra So che Per ora non sono molti Gli attrezzi Devo dire Ma ho davvero solo due di cobblestone Ma che schifo Allora bene tutto Chiudiamoci in casa Abbiamo proprio avuto fortuna Con questa casa secondo me Ma ho avuto un sacco di fortuna Ma infatti se andiamo qua sopra Non è che troviamo qualcos'altro Per caso No perché qua sopra Ci sono già stato E peraltro qua sopra Io potrei dormire E la notte Potrei passarla così Ok ho dormito Buongiorno Sole mio Sole Come stai Quest'oggi Sei proprio luminoso Adesso Vedi che mi Mi spara Tipo della lava in testa Il sole Perché giustamente Magari si offende Perché io Lo saluto Come se fossi suo amico Magari non mi considera suo amico Poi si offende Giustamente Potrebbe essere Comunque Sapete che Io stavo pensando Che questa casa Potremmo farla Tipo come Nostra casa personale Ragazzi Cioè nel senso Abbiamo avuto così Tanta fortuna Poi secondo me Poi secondo me Dovremmo anche Trovare un po' più Di nuovi posti Perché sarebbe figo Anzi Sapete cosa faccio qua Praticamente posso fare Una cosa del genere Dato che Chiudi 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 Per carità divina Non so perché Le porte mi stavano Facendo sto brutto scherzo Però praticamente Adesso mi faccio una spada Così vi faccio vedere io Quell'imbecille di un ragno Che non è altro Vieni qua E scusate per l'eco Vi chiedo totalmente Perdono per l'eco Ma veramente Ho cambiato casa Se non lo sapevate Ho cambiato casa Allora adesso Metto un waypoint No come faccio Metto un waypoint Un waypoint Qua Magicazza Allora sì Il mondo ovviamente La serie si chiama Magicazza Praticamente metto casa Per ora Casa Ok casa E qua c'è la casa Quindi se io Tipo ora Volessi teletrasportarmi A casa Posso teletrasportarmi O no Cioè nel senso Dovrebbe lasciarmi Teletrasportare Ma magari Tipo esistono I waypoints Tipo waypoint Waystone Esatto esiste la waystone E praticamente possiamo Craftarci Ok dovremmo craftarci Una Una biswatch Ma che cazzo Stavo per dire Una brutta cosa Non devi dire cose brutte Dugis Family friendly Per favore Io sono una persona Family friendly Di solito Anche se a volte Mi viene da dire Ma se Voi utilizzate le parolacce Scrivetemi nei commenti Se utilizzate le parolacce Oppure no Perché è bello Saperlo Secondo me Molto bello Cioè a me piacerebbe Tanto sapere Se voi scrivete Le parolacce Perché secondo me È una cosa Abbastanza normale Che tutti quanti fanno E quindi E quindi volevo sapere Se anche voi Lo facevate Oppure no Io a volte Sì Non Cioè praticamente Quasi mai in realtà Perché non è che mi piaccia molto Però a volte Mi potrebbe uscire Anzi a volte Quando mi arrabbio Porca puzzardona Me ne escono tante Però Credo sia normale Quello Poi ovviamente Se mi arrabbio nel video Non dico parolacce Perché ci mancherebbe altro Allora qua praticamente Diventa una casa nostra Abbiamo già detto questo Scrivetemi se È una buona idea Secondo voi Che diventi casa nostra Oppure se volete Tipo che costruiamo Una nostra casa Personale Perché tipo qua Possiamo anche coltivare Adesso ci mettiamo A coltivare È una coltivazione Molto coltivosa Tipo adesso Prendiamo queste Prendiamo così Facciamo cosà Craftiamo La coltivazione Del craftonza Vabbè senti Facciamo così Guarda perché Se no Ma ditemi per favore Che qua Un giro Magari c'è Un fiume Un lago Un qualcosa Con l'acqua Perché sarebbe Tecnicamente Molto utile Se ci fosse questa cosa qua Per favore ditemelo Perché Se non c'è niente Urlo in giappo cinese Che Non so È una lingua Molto particolare Allora Devo dire Siamo stati molto fortunati Perché qua vicino C'è un mare Quindi Perfetto Devo dire Perfettamente Adesso andiamo Forza A miei Prodi avventurieri All'avventura magica Insieme a Dunis E ai su Alla Allora So che a volte Potrei sembrare Fuori di testa Me ne rendo Perfettamente conto Infatti vi chiedo Scusa se questa cosa Vi sta scandalizzando In questo momento Spero che Potremmo risolvere Le nostre divergenze In futuro Altrimenti Non lo so Cioè nel senso Mi offendo un pochino Perché giustamente Se Non va bene Se non riusciamo a risolvere Le nostre divergenze Perché nel senso Noi siamo amici Amici Risolvono sempre Le loro divergenze Allora Non so cosa sia sta roba Però facciamo finta Che lo sappia Va E' molto meglio così Allora Prendo la carne E me la mangio tutta Tu Pollo Il pollo Pollino mio Ti metto la spadina Dove Insomma Mi piace Prendere Ok Mi dissocio totalmente Da quello che sto dicendo Praticamente Mi piace La carne Di pollo A voi piace La carne Di pollo Ok Credo che questa cosa Sia una scena Molto carina Che non voglio disturbare Perché C'è una famiglia Scusate ma Si sono trasformate Tutte quante Davanti a me Ora non per dire Ma non è normale Questa cosa Cioè Sono cresciute Tutte quante Davanti a me Ad allora Le uccido Come si permettono Cioè Questa cosa Ok che sono Cioè Mi stanno dicendo Che Accelero la vecchiaia Io non ho capito C'è un'offesa Secondo me Questa qua Mi sono avvicinato Sono cresciute Come delle scrofone Perché ho detto Questa cosa Vabbè fate finta Che non l'ho detto Ok Per favore Se no qua Poi diventiamo Poco Poco adatti A tutti Ecco Allora Andiamo avanti Praticamente Prendiamo Queste Questi oggetti Qua che ho fatto Dopo Mettiamoli Tutti quanti Nella mencio Nel senso Mettiamoli qua Dentro Che non so come si chiama La fornace Si chiama in teoria Ok Perfetto Adesso spero dire Di mettere tutte le cose Inutili dentro E superfue Ecco le patate Dovevo mettere Porca puzzarda Scurreggiona Vabbè Quelle me le ricorderò Scrivetemelo anche voi Nei commenti Se no Non mi ricordo Niente Ovviamente Quando mai Mi ricordo qualcosa Nella vita Mai Cioè Ricordarsi qualcosa Per me Vuol dire Praticamente Taspita Tu mi sei diventato Un genio Tutto da un tratto Comunque se vedete Abbiamo anche Un allambicco Qua dentro Molto buono L'allambiccone Molto buono Allora Praticamente Cosa devo fare Adesso Dobbiamo andare Ad esplorare altre cose Però Vediamo insieme Praticamente I nostri bellissimi Advancements Praticamente Dobbiamo fare Allora Vi leggo Con l'accento inglese Edit sign text Using an empty hand Praticamente Vuol dire Modifica Un coso Sto coso qua Un cartello Utilizzando Una mano vuota Ok Signore Praticamente Svolgerò il suo advancement Perché è una cosa Semplice da fare E quindi Praticamente In teoria Posso fare così Giusto Vediamo se Me lo dà Dico se mi dà L'advancement Cosa pensavate Allora Così Ok Perfect We are Non so perché Ho detto sta cosa Scusate A volte mi parte Proprio l'embolo Comunque Ho fatto un verso Strano Volevo parlare In inglese Ma non so perché Stavo parlando In inglese Infatti mi devo Dare pizzicottino Vabbè Allora Togliamo il sign Perché non sarei Un caspito di niente L'ho fatto solamente Perché Dovevo farlo Se no non l'avrei mai fatto Invece andiamo avanti A completare questo Farm skills Qua Riutilizzo il mio Inglese magico Use a hoe To Oh my god What's this Simultaneously Harvest Ma che caspita vuol dire Ok penso di non aver capito Andiamo a farne un altro Invece perché Potrebbe essere Più utile così Ma praticamente qua Ci dice di buttare Qualcosa Su un Un coso di lavano Un secchio E il secchione E praticamente Per distruggere l'item Ma io non so voi Però Secondo me Cioè secondo voi Io Posso mai avere Un secchio vuoto No No ovviamente Però Dato che comunque Abbiamo il waypoint qua E comunque potremmo ritornare Quando vogliamo Io direi di fare Qualcos'altro Direi di andare Ad esplorare ancora Qua in giro Un pochettino Le varie zone Di questo posto Secondo me sarebbe Una figata Pazzesca Ragazzi Quindi andiamo ad esplorare Venite insieme a me Amici dell'avventura Venite Scusate se vi sto spaventando È normale Allora Perché mi state prendendo in giro Guarda che Lo so che mi state prendendo in giro Cioè Boh Io sconvolto totalmente Da voi stessi Veramente No te sto scherzando Ah Cos'è che c'è lì Un albero Beh caspita Questa sì che è avventura No però potremmo cercare qualcosa Di davvero avventuroso Dai però scusate Se io voglio tipo Una casa Una casa Tipo una casa Queste sono le zone Che abbiamo già sbloccato Tipo della mappa Qua come vedete C'è il posto Per ritornare a casa nostra No Va bene ok Però non è che mi interessava Molto ritornare a casa mia Io volevo trovare Una zona avventurosa Il mare Non mi sembra affatto avventuroso Cioè nel senso Magari se ci Inandertriamo Magari possiamo farci Però magari potremmo fare Qualcos'altro Tipo Cos'è questo Tipo Potremmo fare Capture a bat Using a bat Ma stai scherzando Cioè devo Praticamente sto qua Mi dice Di catturare un pipistrello Che già li odio Di loro Con un secchio Vuò ma tu sei fuori Ma tu sei fuori di testa Ma perché mi danno Stai così Allora Però posso fare Un quadrant From the copper In gods Questa cosa Posso relativamente Farla se magari Mi viene in mente Come fare No scherzo Io ce l'ho in mente Come fare un quadrant Che praticamente Dovrebbe essere un blocco Credo Spero Me lo auguro Perché se no Non ho capito niente Vuol dire che Faccio schifo in inglese Spero di no Use a book with an enchantment Ma che caspita No questa cosa Non va bene Allora Io devo Praticamente Questa cosa Come stay sitting Allora posso diventare Un cafting sitter Allora posso craftare Tutte ste cose Molto belle Però non so come si fanno E come faccio a farle Praticamente Io so che Nei miei libri Nei miei numerosi libri qua Praticamente mi dice Anche come craftare Determinate cose Tipo gli item O altri tipi di cose Tipo qua c'è la prismarine Molto bella Devo dire Oppure c'è La Shuttered Whatever Che non so cosa sia Void Heart Che non so cosa sia E tante cose Ok Direi di abbellire La nostra casa intanto Perché se no qua Cos'è che c'è Scurreggio Una maiala Vieni qua Muori Ok perfetto Scusate Mi è stata un po' antipatica Ora so che non si doveva fare Che sono una persona Un po' senza cuore Me ne posso rendere Anche conto da solo Grazie Non serveva a dirmelo Però Se me l'avete scritto nei commenti Potrei Potrei anche Urlare In giappo cinese E vedete Quando io urlo in giappo cinese Nessuno Mi resta davanti Nessuno Ok perfetto Mangio Mangio Ok La casa Direi che così va bene Però praticamente Da questa parte Io voglio totalmente Togliere sta cosa Se no non va bene Raga Aspettate un attimo Ma raga Ma ho perso il piccone Ma che caspita di fine ha fatto Me ne devo fare un altro Per forza Allora ce ne facciamo un altro Infatti poi dopo Dovrò anche andare in miniera Chiaramente E io direi di togliere Tutte ste robe qua Che schifo Perché Praticamente danno fastidio Cioè guardate Non si riesce mai a passare Non va bene Ovviamente Quindi lo facciamo insieme Così Molto bello Ok Perfetto Va bene Ok Sì sì Comunque questo silenzio È indicativo Di quanto sono solo No vabbè Sto scherzando Dai No ovviamente Sto scherzando ragazzi Cioè nel senso È vero che ultimamente I miei amici Non stanno più registrando Ma perché è estate E nessuno di loro ha voglia E non va bene questa cosa Ovviamente Dato che non hanno voglia Mai più registreranno Perché giustamente No c'è qualcuno che è in vacanza Ma la maggior parte Non ha voglia Quindi quelli che non hanno voglia Non registreranno mai Ma proprio mai più Cioè Sono serio Non sto scherzando Non registreranno mai più Perché Cioè veramente Non aver voglia Vuol dire proprio una cosa Brutta Cioè male Male Non va bene Non va bene Cioè è brutto Però qui invece È molto bello Molto bello Cioè qua Guardate che figata Bellissimo Oh bene Sono contento di avere Una casa nuova Di zecca Come la nostra Quindi Io direi che Questa Per questa avventura Per oggi È tutto E Lasciate like Iscrivetevi al canale Ciao Ciao